Nessuno deve morire in mezzo al mare, le vite umane sono sacrosanti. E quando sono salvati dove li vuoi mettere? Un conto è alimentare il business dell'immigrazione clandestina, perché spendere 3,4 miliardi di euro, che è quanto lo Stato italiano ha speso nel 2015, alimentando il business di poche associazioni, di alcune cooperative sociali, della Caritas, il migliore è Presidente o il business dell'immigrazione di alcuni centri d'accoglienza e di alcuni CARA. Allora noi un CARA ce l'abbiamo collegato, onorevole Montella. Questa è la vergogna, non c'è qualcuno che sta speculando sulla pelle di questa povera gente, che si sta arricchendo sulla pelle di questa povera gente.